Come ti chiami? Il tuo prossimo obiettivo è a Parigi. Opererai da sole. Domande? Che camera? È entrata nel suo hotel alle 13.37. Non ha notato niente di sospetto? Tipo cosa? Cos'è che più desideri al mondo? Non uscirai mai da qui. Non può controllarlo dalle telecamere? Tutto cancellato. Opera di professionisti. Come ci sei riuscita? Ho per voi degli aneddoti abbastanza singolari su un paio di attrici. Per esempio, sapevate che Megan Fox ha dichiarato in un'intervista che crede a tutti i miti irlandesi? Soprattutto all'esistenza degli elfi. Invece Lady Gaga ha paura dei fantasmi. Soprattutto di uno che si chiama Ryan, che è convinta che la stia ossessionando. E ha speso 50 mila dollari per un rilevatore di campi elettromagnetici, progettato per scoprire i poterdest. Oh, poverina. Comunque ha fatto bene, sei più tranquilla. Ragazzi, vi ricordo che ci trovate anche su TikTok. Trovate in infobox il link. Ci seguite anche lì. A testa. A testa.